Fortunatamente le partite non si vincono, non si perdono nei primi 5 minuti, se no saremmo 0-2. Loro sono bravi a fare questa transizione rapidissima, su ogni nostro errore parte una 4% che facciamo fatica a contenere. Dobbiamo lavorare su questo fondamentalmente, perché anche stasera l'attacco ha girato, nel primo tempo abbiamo subito troppi punti, 48 all'intervallo su troppi. Dobbiamo riuscire a contenere questa loro foga di volare verso il nostro canestro, ovviamente dobbiamo marcare meglio Hidalgo, perché ci ha creato tanti problemi nel primo tempo, un po' meno nel secondo, fortunatamente. E loro non mollano, anche Antonelli ha fatto una gran partita, Di Bentin sta giocando due partite super. Dobbiamo pensare che la Serie non è finita, dobbiamo pensare che siamo 0-0 e dobbiamo pensare di dargli il colpo del K.O. sabato. Poi le energie ogni partita calano, noi che siamo una squadra con due giocatori molto importanti, che sono un po' su di età, dobbiamo essere bravi a provare a chiuderla già sabato.